Scatterà alle 8.30 di lunedì prossimo, 6 febbraio, la chiusura al transito veicolare e pedonale del Ponte Bagni per consentire alla ditta COSIT di Agrigento di effettuare gli attesi lavori di messa in sicurezza. Non c'erano alternativa alla chiusura totale del tratto interessato ai lavori, si spera soltanto che dopo una prima fase si possano generare le condizioni di sicurezza per una riapertura, seppure parziale e limitata. La Polizia Municipale di Sciacca ha predisposto l'ordinanza che contemple percorsi alternativi che permetteranno di raggiungere il centro abitato. Per chi proviene da Agrigento è possibile percorrere via Aldomoro, via Tacci, via Montecronio e giunti nella via Ferraro proseguire tramite la statale 115 per raggiungere il centro abitato oppure proseguire in direzione Palermo-Trapani. Analogo percorso è previsto per chi proviene dai quartieri Isabella, Sant'Antonio e Sovareto. In alternativa dalla statale 115 si può prendere l'uscita Sciacca-Ovest in direzione di via Pompei-Ospedale. Stessa viabilità ovviamente al contrario per chi proviene da Palermo-Trapani e deve recarsi nelle contrade Isabella, Sovareto e Sant'Antonio. L'avvio dei lavori di messa in sicurezza del Ponticello Bagna ha accelerato di fatto l'attivazione della stazione degli autobus in via Lioni. Mercoledì scorso si è svolto l'ultimo sopralluogo alla presenza dei rappresentanti delle ditte di trasporto e del funzionario dell'assessorato regionale alle infrastrutture che ha poi dato il via libera seppure con alcune prescrizioni. La fermata degli autobus non sarà più nel piazzale Abisso e nel viale delle Terme ma spostata in via Lioni. Il terminal di sosta e transito degli autobus di linea extraurbana che operano a Sciacca sarà attivo dalla mezzanotte a un minuto del 6 febbraio. I biglietti potranno essere fatti anche sopra l'autobus in attesa che venga installata la biglietteria. Navette della ditta dei trasporti urbani a Eternal trasporteranno i passeggeri dal terminal di via Lioni al centro urbano e dal centro al terminal. L'attivazione della stazione degli autobus è inserita in una nuova ordinanza della Polizia Municipale che prevede anche la disciplina della viabilità nell'area interessata. Dalla via Lioni si potrà scendere, dalla via Pompei si potrà salire.